Mi hanno strappato tante cose, ma l'anima e il cuore non me la strapperanno mai. Non sono in vendita! Non sono in vendita! Andate via! Chiamate velocemente! Memorizzate il numero! Io voglio ringraziare i tantissimi militanti. L'Italia che intende dimagrire, l'Italia che intende stare bene in salute. Stanno contribuendo a una grandissima avventura. Questo meraviglioso studio di Napoli. Non vi avrete mai, mai, il più confuso di metodologia. Basta farti mettere le mani in faccia! Venti, vai a casa! Li mandiamo tutti a casa, una volta per tutte, tutti a casa! Voglio avere paura! Voglio avere paura!